37 vigili del fuoco supportati da due autobotti, il carro schiuma, un'autoscala e il carro autoprotettori sono stati impegnati dalle prime ore di questa mattina nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato intorno alle 5.30 in un cantiere rimestaggio navale di via Colmoskin a Fiumicino. Le fiamme hanno coinvolto decine di barche e un capannone provocando danni ingenti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita né intossicata. È dalle 5.30 che siete qui fuori? Allora, l'orario preciso spaccato non lo so, io ho sentito delle deflagrazioni inquietanti, sicuramente un evento importante che non si può non sentire, quindi siccome veniamo vicino all'aeroporto ci sono tutta una serie di punti strategici, chiaramente l'ansia era al massimo ed era ancora tutto buio, quindi non siamo riuscite ad identificare cosa fosse. Le deflagrazioni sono state sicuramente più di una, io ne ho contate almeno quattro di diversa entità. Quando poi è uscito il sole, è uscito un po' di luce, ci siamo accorti che la colonna di fumo era praticamente dietro casa e quindi ovviamente poi abbiamo compreso che probabilmente anche dall'odore il tutto venisse da questo cantiere nautico. Quindi immagino la paura è stata tanta? Beh, ci siamo spaventati perché c'è un aspetto importante, l'aspetto importante è quello che questo cantiere dà sul fiume, dove c'è una banchina sul Tevere che è a confine con i nostri terreni e quindi le nostre case e che nella realtà la manutenzione, quindi il canneto e tutte quelle piante che sono lì non sono in alcun modo manutenute, non c'è una striscia tagliafuoco, quindi il nostro timore era quello, per cui noi abbiamo cominciato a bagnare fuori. Insomma, come dire, sono quelle cose per cui ci si chiede se viviamo in una zona industriale o viviamo in una zona nemmeno residenziale perché questa è una zona di campagna. I tecnici di Arpalazio sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi sulla qualità dell'aria e valutare gli eventuali rischi ambientali. Dalla colonna di fumo si può vedere quello che c'è, siccome brucia vetro resina, come minimo ci sarà assolutamente di ossina per non parlare di altro. Dalle prime indagini sembrerebbe che l'incendio si sia propagato dall'esterno del cantiere verso l'interno, colpendo successivamente il capannone e le imbarcazioni presenti, ha dichiarato il comandante della polizia locale di Fiumicino, Daniela Carola.